Stefano Vinti, Assessore alle politiche abitative della Regione Umbria. Gli hanno presentato oggi questo nuovo bando della Regione Umbria per l'assegnazione di contributi alle giovani coppie appunto per l'acquisto della prima casa. Cosa prevede? Questo è uno sforzo della Giunta regionale per garantire un'aspirazione di tante giovani coppie di essere proprietari della propria abitazione. In questa situazione di crisi economica, di difficoltà con le banche per accendere i mutui la Giunta regionale propone un bando per giovani coppie con età non superiore ai 40 anni che possono richiedere un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 40.000 euro per coloro che individuano e acquistano un appartamento nel centro storico dei due capoluoghi di provincia e perciò di Perugia e di Terni. Ovviamente si possono acquistare appartamenti anche non strettamente nel centro storico, il contributo è minore. Il contributo è così alto, è così fortemente alto perché oltre che garantire questa aspirazione alle giovani coppie in una situazione di crisi, la nostra idea è anche quella di rafforzare la presenza e la residenzialità dei giovani e delle famiglie nei centri storici perché pensiamo che uno dei problemi e forse il problema centrale dei nostri centri storici, all'inizio di quello di Perugia, è il fatto che subiscono un processo di spopolamento. Più famiglie, più servizi, più vivibilità nel centro storico, questa è la nostra politica.